Stai rivellendo? Sì, ci troviamo sulla swimming pool Ma, ma, tutto in inglese, sì Fede! Ma no, qua ti sporcano le scarpe Ti sporcano le scarpe sull'erba Anche le sono nuove ingegnate Basta, non sarò mai più sull'erba Aspettare che stava a zettare così, però mamma mia non me l'ha voluta far comprare Ma dove stiamo andando? Perché devo seguirli? Stavano in un campezzo molto fashion star I campezzi sono il navo di Bambi Guarda, sta scritto Troverò Un posto è molto chic Vedo un po' che mi riprendo da solo Stiamo andando nel calcone dove è Dove si sente? Dove si riscolta? Oddio Vorrei la talle nera Oddio Siamo nella merda Siamo finiti nella merda Siamo finiti nella merda Siamo finiti nella merda Ma hai visto il video nuovo di zia Gianna? Siamo proprio nella merda L'hai visto il video di zia Gianna Quando sta con la ragazza Che fa il video di questa ragazza Quando fa stessa da sola Sì, lei è sola fa stessa La zia Gianna è una pervertita Una perversa La zia Gianna non è né una donna né un uomo È un mix Non si può definire né donna né un uomo No È un trance La zia Gianna è al momento, capito? È alternativa Molto alternativa È una sinqueen La zia Gianna io Zia Gianna io Ma no, ma che bello Siamo nella merda Ma che non è più avanti? Ma che non è più avanti? Non è la merda Ma che c'è ma fa? Ma che c'è ma fa? Non so, capito? Ci vuoi nascondere E prima rimane Rimane in mano E mi hanno toccato Action food Se il giorno rimane in trovo Ti immagini? Non vintano For me settimana No, forza Ma che fa? Questo è il chioschetto che ci dobbiamo aprire noi, tra poco c'è il chiosco e qui i giocatori quando, la gioca relax dei giocatori quando si, quando giocano. La catapiccia. E qui vediamo la catapiccia da Luca e Fede. Da Luca e Fede Hill. Invece Alessia si va a prendere il suo caffè a bordo piscina, la swimming pool, come si suol dire, la swimming pool. A pool frank. A pool frank? Sì. Sponsorizzate, faccio un po' di pubblicità, dai. Fede sport, devo fare un po' di pubblicità. Algida. Il video? Il video a chi? Ma perché devo essere eccitato? È un campo da calzo. Perché? Alessia non ti straccia nessuno stiti, per piacere. Alessia non ti straccia nessuno stiti, per piacere. No, ma poi io voglio toccarla, devo passare questa apertura. Ah, grazie. Stiamo per calcio. Toccala. Qua è spaventata dai calciatori. Oddio, che bello. È schifo. Non mi laverò mai più queste mani. Non mi laverò mai più queste mani. Non mi laverò mai più queste mani. Quella è la cassa, dove hanno fatto gol. Gol. L'Alessia, oggi è la sua comunione. Certo. Ovvio. Stiamo calpestando il suolo che l'hanno calpestando molti vif. E' una cosa di carta, però non so che cos'è. Era un bigliettino. Penso che qua non ci rinciano. Penso che ci rinciano. Come la polizia? Perché siamo ben visti, proprio ben visti. Vabbè, dire, stanno proprio là. Cioè, mai proprio là. Questo video è lunghissimo. Lo metteremo su YouTube. Antona, per testimoniare che tu sei stata a Lolliday Inn, hai toccato il suolo. La bottiglia di calciatori. Allora, prendiamo i suoi beni. Ce la vendiamo. Ma dove ho messo? Ma dove ho messo? Che schifo! Ce la vendiamo sui... Che schifo, Andrea, ma per me che schifo. Non la restate tutta, la vendiamo sui beni, facciamo i soldi. No, Antonio, le scarpe. Che feglia, Antonio. Questa che scemo. Ma non è che ci si è, ci si è di Napoli. Questa scorsa maledessa. Ma se deve abbassare qualche calcio... Ma quando me lo metto su YouTube? I tuoi amici lo possono vedere semplicemente su YouTube. Dovemmo andarcene, dovemmo andarcene veramente. Stiamo guardando! O dove? Là! Ottio! La vigilanza! La vigilanza! Devo scappare! Devo scappare! Non c'entro! Non c'entro! Ascoltiamoci dentro... Ascoltiamoci dentro al chiosco! Io e Raffaele... Sì, era... Ascoltiamoci tra gli alberi, tra gli alberi! Sì, a me non mi capo manca niente! Siamo ricercati adesso! Cioè, capito che siamo l'acqua in mano? Io non posso essere ricercato! Non c'è... Non c'è... Non c'è... Non c'è... La terza volta! Sì, stai... Ma potete volete vedere solo che ha voluto lavato? Non c'è un stando qui? Ah... Non lavato... Non è nulla! Spegniamo, facciamo dopo! No, no! Qui, Lucas Hill! Sì, stai...